Oggi vi presentiamo un set davvero speciale che si ispira all'eleganza e alla raffinatezza senza tempo di una delle icone di stile più amate di tutti i tempi. Stiamo parlando di Audrey Hepburn. Il set borsa si chiama proprio set Audrey. Tine copelle con effetto coccodrillo ed in vernice. Un fantastico esempio della qualità e dell'artigianato 100% made in Italy. Con i suoi dettagli il set incarna perfettamente il fascino e l'eleganza che hanno reso unica e leggendaria la famosa attrice da cui prende il nome. Non attendiamo oltre e andiamola a vedere nel dettaglio. Ed eccola qui la nostra Audrey in tutto il suo splendore. Come vedete si tratta di un set borsa in vernice con effetto coccodrillo. I dettagli della chiusura e del manico saranno in colore argento. L'altezza è di 20 centimetri e mezzo all'incirca con una base da 25 centimetri, profonda invece 8 centimetri. La base superiore sarà invece larga 22 centimetri. Qui troviamo questo elegante cinturino con questa classica chiusura a girello che va a fermare la pattina. Sarà perfetta da portare a mano grazie al pratico manico che ha un'altezza di 8 centimetri all'incirca ed una larghezza di 2 centimetri. Anche qui è richiamato l'effetto coccodrillo dell'intero set. A completare il set e a permettervi quindi la lavorazione a crochet troviamo lateralmente i fori che hanno un diametro di 0,4 centimetri all'incirca. Internamente il set si presenterà completamente rivestito in ecopelle nera. Quella che stiamo vedendo è la colorazione blu. Come vediamo l'effetto coccodrillo dona delle sfumature davvero particolari che ne esaltano la lavorazione. Il set sarà disponibile anche in un'altra colorazione molto particolare ed elegante ovvero il terra d'ombra. Anche qui l'effetto coccodrillo crea queste sfumature di colore leggermente più scure che esaltano la particolare lavorazione. I colori da poter abbinare qui saranno diversi. Potrete giocare con toni più chiari come quelli neutri o magari con dei colori a contrasto come potrebbero essere dei toni più caldi che ricordano quelli della terra. Un set sicuramente versatile. Potrete infatti pensare magari di applicare lateralmente dei ponticelli e così potrete passare dall'avere una borsa a mano ad una elegante chic tracolla. Quindi magari anche per l'ufficio o una passeggiata in centro. Ma sarà perfetta anche per occasioni più eleganti come degli eventi serali. Pensatela magari abbinata ad un tubino nero con delle ballerine e al tempo stesso perfetta anche con degli abiti eleganti da sera. Potrete divertirvi ad esempio con dei punti più delicati, magari un punto picco per i bordi o una lavorazione a conchiglia. Le opzioni sono varie e potrete divertirvi anche scegliendo il filato. Pensate ad esempio ad un skinny oppure ad un sublime looks per avere un tocco di luminosità che richiama poi anche i dettagli coloragento. Non vediamo quindi l'ora di scoprire tutte quelle che saranno le vostre versioni. Ricordate infatti di seguirci e di condividere con noi tutte le vostre creazioni. Potrete farlo sul nostro gruppo ufficiale Tessiland ma anche sulla pagina Facebook Meglio di Maglia, su Instagram, TikTok, Pinterest e seguiteci anche sul nostro blog. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News con altre novità. Ciao!